Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale originale, cliccate anche sulla campanella, date un'occhiata anche agli altri contenuti e ora procediamo col doppiaggio. Ok, che ne dici, ameba oppure cappello? Secondo me stai bene così. Che carino. Ciao, allora che ci facciamo qui? Niente, aspettiamo che la partita cominci. Ma è la tua prima volta? Sì, non so bene come funziona. È semplice, c'è solamente un impostore tra di noi. Ahà, l'ho detta io. Il nostro compito è trovarlo ed eliminarlo. Esatto, tuttavia questo impostore ha delle abilità molto speciali, quindi devi fare attenzione. Oh, e loro allora che fanno? Non lo so. Idem fratello. Ah, si comincia. Auguri. Ma se sei l'impostore allora f***iti. Oh, figo. Ecco, domanda. Solo l'impostore può usare i condotti, giusto? Beh, allora forse mi sa che non lo saprà mai. Oh, che succede qua? Che succede? Primo non possiamo parlare mentre giochiamo ma solo per votare. Ma che succede? Rosso mi ha chiesto se l'impostore può ventilare. È curiosità da gnuppo. È una scusa vecchia quanto il cucco. E secondo, questa domanda è molto sospetta. Beh, io l'ho semplicemente chiesto perché ho visto il blu che entrava nel condotto dalla telecamera e quindi non so esattamente come funziona il gioco. Lo possiamo fare tutti oppure ecco... Non ero io. Ma cosa? Ti ho visto? Stai mentendo, è improbabile che sia la tua prima volta. Sono già confuso. Qualcuno è morto? No, tutti sono vivi. Quello che voglio dire è che ho visto qualcuno blu entrare nel condotto. Qualcuno blu. Non ero io. Sei sicuro che non fosse ciano? Cosa? No, io... Oh cavolo, sono in confusione. O forse eri tu. Ripeti? Già. Forse sei uscito dal condotto e cerchi una scappatoia. Ma perché c***o dov... Oh beh, sembra che non fosse lui. Che peccato. Sì, ti compatisco. Vabbè, continuiamo. Che gioco di merda. E dai, muoviti. Ma perché non vuoi passare? Forza, accettamela. Ma che c***ata atroce. Oh sì, e vai, ti ringrazio. No. Un attimo. Dove, 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 dove era il corpo? Dove, dove? In admin? Dove? Cosa l'ho appena detto? Ero con cerno in infermeria. Confermo. Sono a controllo. Io ho trovato il corpo. Io ero in admin. Uno di voi str*** di mente. Perché noi saremmo bugiardi? E tu invece? Ha ragione, per tutta la partita sei rimasto sempre solo. Stavo facendo le mie task e inoltre come fai a sapere che ero tutto il tempo da solo? Tengo sempre gli occhi puntati su tutti perché non mi fido di nessuno. Cosa ti manca da fare? Elettrica e spazzatura. Molto sospetto. Come fa a essere sospetto fare le proprie task? Diciamo, ecco che questa sarebbe una frase che direbbe un impostore. Cosa c***o volete che dica? Che sì, sono stato io a uccidere Giallo? Anche quello è sospetto. Lei signore è un c***one. Ragazzi, vi prego, facciamo così, io seguirò bianco fino alla spazzatura. Lo segnalerò se sarà positivo o no. Sì, però non trovo un'idea, giallo piano. E va bene, seguiamo questo piano, ma prima o poi vi renderete conto che io non c'entro nulla con tu. Oh, accipicchia. Dove? Dove si trova? Spazzatura. Spazzatura? È molto sospetto. Tu devi stare zitto. Chi c'era insieme a lui? Blu. Era il blu. Già, vero, era il blu. Blu? Sì? Visto niente? No, proprio niente. Oh, amantaggiano, ragazzi, siamo seri. Sì, chiunque sia questo giocatore è davvero molto bravo a farlo. Non vi pare strano che il nero abbia trovato due cadaveri di fila? Sempre da solo? Autosegnalazione? Non saprei, ma la cosa è davvero molto sospettosa. Concord, è davvero molto sospettoso. Ma che stupito. Le cose vanno male, ragazzi. Voi due vedete di starmi alla larga. Già, state lontani, testa di c***o. Perché non fai le tue tasche, Blu? Io ho già finito le mie... Sparisci animale. Io l'ho già fatte, le mie tasche. La tua scusa, invece? Io non vi dico un c***o di niente. Pensavo non si potesse parlare. Tu devi chiudere quella c***o. Un attimo, siamo solo in tre. Oh, giusto. Ma non si vedo il sospetto. 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 Non si vedo il sospetto.